Un sondaggio atipico, nome per nome, quello pubblicato dalla società Dini Romiti Consulting che ha studiato le tendenze degli elettori in vista dell'appuntamento con le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Il risultato che più interessa il Molise è quello che riguarda Aldo Patriciello, dato per sicuro eletto a Bruxelles tra i vari candidati del collegio regionale. Sarebbe la quinta volta per il politico molisano, questa volta in rappresentanza della Lega. Il sondaggio è stato realizzato in base all'analisi delle liste elettorali dei singoli partiti in tutte le circoscrizioni. Si è avvalso dell'utilizzo di un algoritmo per valutare lo storico delle preferenze, i voti ottenuti in differenti competizioni, orientamenti e valutazioni degli esperti. Tecnicamente il sondaggio è stato commissionato dalla VisFactor alla EMG Different ed è stato realizzato con il contatto di 10.523 elettori e con un campione di 2.000 risposte. Il periodo del sondaggio va dal 5 al 9 maggio, ma vediamo le previsioni che più ci interessano relativamente alla circoscrizione meridionale. A Fratelli d'Italia andrebbero 5 seggi, così come ai grillini, 3 seggi per il PD, 2 a Forza Italia, 2 ad Azione ed 1 alla Lega. I nomi più caldi o dati per sicuri nel sondaggio sono per Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Dennis Domenico Nesci, Michele Piccaro, Francesco Ventola, Alberico Gambino. Per i 5 Stelle Pasquale Tridico, Valentina Palmisano e Mario Furore. Gli altri due grillini non sono stati indicati. Per il PD Raffaele Topo l'uscita annunziata con il terzo posto in ballo tra Antonio De Caro e Pina Picierno. Per Forza Italia vengono dati per eletti Antonio Tajani e Fulvio Martusciello. Per azione Carlo Calenda ed Elena Bonetti. Infine per la Lega, l'unica elezione data per sicura è proprio quella del molisano Aldo Patriciello. Quella di Vannacci viene data solo come probabile.